Valerio Vigliaturo, buongiorno. Buongiorno a te Livio. E benvenuto davvero qui per raccontare, per raccontare ai nostri ascoltatori il premio inedito Colline di Torino, un premio che ormai è più che consolidato e Valerio Vigliaturo l'ha ideato, l'ha pensato, l'ha immaginato, l'ha realizzato e continua a realizzarlo. 23 anni, in 23 anni un premio come cambia? E cambia notevolmente anche rapportandosi ai cambiamenti della società, non solo agli sviluppi del mondo legato all'editoria e allo spettacolo. E quindi in questi 23 anni abbiamo attraversato tante trasformazioni. Tante trasformazioni e tante possibilità avete dato, avete posto in essere per scrittori, ma non solo, perché il premio che stiamo per raccontare è un premio dedicato alla poesia, alla narrativa, alla saggistica, al teatro, al cinema, alla musica. In sostanza qui il ventaglio di proposte è veramente molto ampio, per cui se qualche ascoltatore avesse qualcosa, come si dice nel cassetto, non può che fare riferimento al premio inedito. Beh sì, perché comunque è il nostro premio che è dedicato alle opere inedite e che si rivolge a tutte le forme di scrittura, quindi anche ai testi canzone, la parte letterale, alle sceneggiature, legate quindi ai cortometraggi e poi ai copioni teatrali. E chi è che può partecipare a questo premio? Ma può partecipare chiunque, anche chi ha già pubblicato, ha già ricevuto dei premi, l'importante è che siano le opere inedite e poi non c'è un limite di età, di nazionalità, insomma. L'importante è che siano opere inedite e in lingua italiana. A proposito di partecipazione dall'estero, voi avete avuto una partecipazione massiccia anche dall'Europa, dagli Stati Uniti, dall'America, dall'America centrale e così via. Quindi è un premio che sa viaggiare nel mondo? Beh sì, perché comunque diffondendolo soprattutto online, diciamo così, e poi con i social, riusciamo ad arrivare in tutto il mondo. Lì ci sono scrittori o comunque persone che sono nate oppure si sono trasferite in quei paesi che poi spediscono, perché noi chiediamo il cartaccio. Su alcune cose siamo ancora all'antica maniera, anche perché poi per selezionarle, insomma, avere il cartaccio davanti è un'altra cosa, rispetto poi a guardarle sul monitor, centinaia di opere, insomma, diventa poi abbastanza impegnativo poi, soprattutto per gli occhi e la vista. Soprattutto poi la gestione a livello cartaccio è anche migliore in molti sensi. Tra l'altro, ricordo, il premio, il Montepremi è di 8 mila euro, quindi come si diceva nella trasmissione di Arbore, mica Bruscolini. Noi li dedichiamo negli ultimi anni, già da un po' di anni, soprattutto a contributi per la pubblicazione, la promozione, la produzione delle opere per ogni sezione. Quindi, per quanto riguarda la poesia, la narrativa, la saggistica, attraverso i Montepremi di ogni sezione, poi cerchiamo poi di portarli, di accompagnarli verso il mondo dell'editoria per pubblicarli. Per quanto riguarda invece le altre sezioni, cerchiamo di accompagnarli verso la produzione, quindi una lettura scenica, un reading del testo teatrale vincitore. Poi la realizzazione, soprattutto progettuale, perché è già più complesso poi da realizzare un cortometraggio. E per quanto riguarda il testo canzone, noi cerchiamo di sostenerli attraverso poi la registrazione in studio oppure i concerti dal vivo. Io vorrei però spendere, Valerio Vigliaturo, due parole su una parte, sono tutte importanti, ma su una parte che rappresenta qui la base del futuro, Inedito Young. Che cosa ci puoi raccontare? Beh, con Inedito Young, che è un premio speciale che diamo insieme all'altro che è Inedito Ritrovato, noi cerchiamo di sostenere un po' gli autori minorenni. Lo facciamo attraverso anche Aurora Penne, che ci omaggia di queste penne, ed è un incentivo alla scrittura per i più giovani per poterli sostenere verso la loro scrittura e verso un futuro in cui loro decideranno se continuare o meno a scrivere. Quando si partecipa a un premio letterario penso che sia importante anche dare un'occhiata alla giuria e quindi più la giuria ha nomi che fanno rumore, per così dire, e più c'è la possibilità di essere analizzati in forma completa, ovvero il fare rumore non è l'essere noti a tutti, ma in ogni modo qui ci sono fior di autori, Valerio Vigliaturo. Beh sì, sono molto contento che siamo riusciti a coinvolgere una persona, uno scrittore come Aldo Nove, che è sempre Ristio insomma a schierarsi o a partecipare soprattutto a giurie di premi. E poi abbiamo tanti altri scrittori da Pallavicini fino a Voltarelli nel testo canzone che insomma ci permettono di avere una giuria comunque competente e qualificata. Competente e qualificata è questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dà sostanza e importanza a un premio letterario come il premio inedito che insieme con tanti altri premi qui la differenza è sostanziale perché dicevamo poco fa in apertura di conversazione 23 anni di attività e ogni anno essere sempre pronti per capire come va la scrittura. A questo punto proprio parliamo del come va la scrittura perché in 23 anni la scrittura come si è evoluta? Si è evoluta tantissimo tant'è che il nostro ragionamento che era partito dagli sviluppi legati al metaverso lo scorso anno che non ha avuto molta diffusione dobbiamo dire e quest'anno invece tocchiamo un argomento così delicato e così contemporaneo come quello dell'intelligenza artificiale e quindi dell'uso di queste anche chatbot e dell'intelligenza nella scrittura quindi siamo partiti dalla considerazione che comunque anche nella scrittura l'ingerenza può essere anche un pericolo se appunto non viene dosata, equilibrata in una giusta maniera e per questo appunto il nostro interrogativo il nostro input grafico che caratterizza questa edizione è dall'io all'IA quale futuro per la scrittura e per farlo ci siamo affidati inizialmente a un programma un software intelligenza artificiale ma siamo rimasti un po' colpiti dal fatto che al di là degli input che uno gli può dare a questi programmi, a questi software poi sviluppano soprattutto l'oro e come fate a capire e come fate a capire se io vi mando un romanzo scritto con intelligenza artificiale come fate a capire che non sono stato io ma qualcun altro? e beh innanzitutto l'abbiamo escluso nel bando certo, è proprio per quello che lo dicevo noi forse siamo il primo concorso che si è interrogato su questo problema e abbiamo escluso dal regolamento le opere e i testi generati da software di intelligenza artificiale e poi ci sarà attraverso quando ci invieranno poi i file, soprattutto i finalisti riusciremo a capire magari se qualcuno ha utilizzato meno so che ci sono anche dei programmi che analizzano appunto la scrittura e riescono a scovare se hanno usato utilizzato dei software e per tutti quelli che sono interessati a partecipare al premio inedito 2024 qual è il punto di riferimento? oltre ai social naturalmente? il nostro sito è sul nostro sito premienedito.it e poi ci sono i vari contatti, le mail e il numero di cellulare che possono utilizzare e la scadenza per consegnare il famoso manoscritto quando è? devono inviare il cartaceo appunto su tutte le opere con tutte le altre cose richieste, la scheda di iscrizione e quant'altro al fermoposta il camaleonte è tutto scritto sul sito bellissimo il fermoposta ancora ma esistono ancora i fermoposta dunque eh sì, vedi su queste cose noi siamo ancora abbastanza tradizionali perché penso che alcune cose devono come anche nella scrittura devono essere mantenute conservate e protette perché c'è il rischio che appunto alcune cose perdano di significato e di valore con l'utilizzo delle nuove tecnologie che devono essere deve essere un utilizzo comunque ponderato e questo è molto importante è importante per un per un premio di letteratura ma è importante per tutto quanto intanto grazie davvero ci risentiremo poi per la proclamazione dei vincitori e poi ovviamente i vincitori parteciperanno come sempre all'incontro al Salone del Libro edizione 2024 buona giornata Valerio Vigliaturo grazie buona giornata anche a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti